ministero apostolico profetico della bibbia del missionario evald frank il missionario evald frank da oltre 40 anni ha predicato in più di 130 nazioni egli è conosciuto per aver pubblicato vari libri trattati programmi radio e televisivi il suo reale insegnamento apostolico è apprezzato dal popolo di dio intorno al mondo cari amici cari fratelli e sorelle in cristo e il fratello frank che vi parla dal centro missionario internazionale di krefeld germania è un privilegio per me ciao parlarvi e riferirmi sempre alle scritture mettendovi a conoscenza con il piano di salvezza adesso noi viviamo in un tempo molto molto serio il ritorno del nostro caro signore è molto vicino le profezie della bibbia vengono ad impiute tutti intorno a noi specialmente con israele con il vicino oriente e anche con il processo di pace e poi noi guardiamo pure nella scrittura per trovare le promesse per il nostro giorno cari abbiamo bisogno di orientamento divino dobbiamo conoscere ciò che dio ha promesso per questo giorno dobbiamo riconoscere il giorno è il messaggio per questo tempo è assolutamente necessario dobbiamo sapere che il nuovo testamento inizia con l'adempimento di profezie della bibbia dell'antico testamento e la chiesa del nuovo testamento termina allo stesso modo e anche con israele e con le nazioni in generale è tutto predetto le profezie della bibbia ci portano attraverso ogni periodo di tempo fino a quando ci sarà il nuovo cielo e la nuova terra e romperà l'eternità è tutto scritto in questa parola di dio perciò noi dobbiamo chiederci quali sono le predizioni in generale quali sono le promesse per la chiesa quali sono le promesse per israele se parliamo di israele quasi ogni cristiano conosce le promesse nella parola di dio isaia capitolo 14 dio avrebbe riportato gli israeliti nella loro patria anche in geremia capitolo 31 noi ci riferiamo sempre a questo e anche nel profeta ezechiele dal capitolo 36 al capitolo 39 poi se andate in osea al capitolo 6 ci viene detto nel versetto 2 che dopo due giorni dio li avrebbe riportati indietro ma loro ritorneranno di nuovo in vita e questo è ciò che è accaduto dopo duemila anni dal 1948 abbiamo un paese chiamato israele il pico è tornato in vita è qualcosa che noi realizziamo che accade nel nostro giorno nel nostro tempo e il signore disse quando vedrete accadere tutte queste cose ricordatevi che questa generazione non passerà prima che tutte queste cose siano adempiute quando il nostro signore era qui sulla terra in luca capitolo 4 egli prese il libro di isaia lesse dal capitolo 61 e poi disse oggi questa scrittura si è adempiuta davanti ai vostri occhi cari alla prima venuta di cristo più di cento profezie dell'antico testamento sono state adempiute infatti giovanni battista era un profeta promesso cari se ci occupiamo del regno di dio non si tratta del reverendo tal dei tali o del prete tal dei tali o l'evangelista tal dei tali o la personalità carismatica tal dei tali dio in primo luogo rivela il suo segreto ai suoi servitori i profeti e se andate in efesini capitolo 2 lì l'apostolo dice le cose che non sono state rivelate nei tempi passati vengono ora fatte conoscere a noi apostoli e profeti cari c'è un ordine divino e se dio dice nel profeta malachia capitolo 4 io vi mando il profeta elia allora non dice vi manderò un evangelista o una personalità carismatica o un operatore di miracoli se egli dice io vi mando il profeta elia c'è qualcosa riguarda questo voi non potete cambiarlo e quando lo stesso signore dice se noi riceviamo un profeta perché egli è un profeta noi riceveremo il premio di profeta perché crediamo la parola di dio rivelata a lui e perciò dio ci dà lo stesso premio ma poi di nuovo il signore ha detto in matteo capitolo 10 versetto 40 che noi dovremmo ricevere coloro che gli manda anche in giovanni capitolo 13 versetto 20 se il signore manda qualcuno non qualcuno che va in un seminario in una scuola biblica in una università e poi si laurea inizia il suo ministero no no ci deve essere una chiamata divina per uno scopo divino collegato alla chiesa del dio vivente collegato insieme al piano di salvezza non può essere diversamente se guardiamo nel nostro tempo abbiamo 347 differenti chiese e denominazioni cristiane ma c'è una sola bibbia un solo dio una sola salvezza una sola vita eterna cari noi dobbiamo ritornare al piano di dio dobbiamo ricevere l'orientamento divino dalle scritture per conoscere il tempo in cui viviamo per conoscere la parola promessa per oggi per conoscere il messaggio dell'ora e prima che possiamo conoscere il messaggio dell'ora dobbiamo conoscere il messaggero alla prima venuta di cristo noi leggiamo in malachia capitolo 3 versetto 1 io vi mando il mio messaggero davanti la mia faccia per preparare la via davanti a me ma adesso prima della seconda venuta di cristo siamo ancora in una generazione profetica con questo io intendo dire che le profezie della bibbia adesso vengono ad impiute i giudei sono stati radunati nella terra promessa sono ritornati da 143 nazioni in cui erano stati dispersi e perché perché dio ha detto così che alla fine del tempo egli li avrebbe riportati nella loro terra nella terra che egli aveva promesso ad abramo e che fu presa nei giorni di giosuè dopo che mosè aveva portato il popolo fuori dalla schiavitù cari ma questo è il nostro tempo quali sono le promesse che ci sono state date io ho già menzionato che dio ha detto che egli avrebbe mandato un profeta perché un profeta perché la parola del signore viene al profeta e dio non fa nulla senza che abbia prima rivelato il suo segreto ai suoi servitori i profeti c'è un ordine divino nel regno di dio e perciò non si tratta soltanto dei cinque ministeri che sono secondo la scrittura ma essere al di là di questo c'è di più perché dio deve parlarci non è sufficiente avere l'evangelista gli apostoli predicatori gli insegnanti e così via ci deve essere un uomo inviato da dio con la parola di dio per questo giorno deve essere il così dice il signore e deve essere la parola originale di dio come la troviamo nelle sacre scritture e perciò dobbiamo sottolinearlo che tutti gli insegnamenti in merito alla deità in merito al battesimo in acqua in merito al battesimo dello spirito santo in merito a tutti questi meravigliosi e importanti temi dobbiamo predicarli dobbiamo insegnarli ma poi dobbiamo comprendere che ci deve essere un ministero profetico per restaurare tutte queste cose in modo che non abbiamo soltanto le nostre proprie vie fino alla fine e comunque permettetemi di dire cari amici se guardiamo oggi nel mondo religioso ogni evangelista ha la propria divulgazione il proprio fondamento tutti hanno il proprio programma anche tutte le grandi personalità carismatiche ma dove sono i cinque ministeri in azione dove che uno si rende conto del ministero dell'altro dove l'unità del corpo di Cristo e permettetemi di dirvi cari anche quando il nostro Signore ha parlato dei segni del tempo della fine specialmente in Matteo capitolo 24 egli non ha menzionato soltanto terremoti guerre e tutte queste cose egli disse ci saranno falsi Cristi e falsi unti ora questa è una cosa molto seria cos'è vero e cos'è falso cos'è giusto e cos'è sbagliato cosa è apostolico profetico e ciò che è imitazione cari amici dobbiamo dirvi devo dirvi che le dottrine che sono sorte nel terzo e nel quarto secolo cristiano in merito a una Trinità che esiste nel cielo cari questo non si trova nelle Sacre Scritture le Sacre Scritture parlano di un solo Dio ma questo Dio si è manifestato in molte maniere egli è creatore sostentatore giudice re egli è molte cose e questo Dio che è spirito che dimora in una luce nella quale nessuno lo ha mai visto né persino accostare questo Dio si è manifestato proprio all'inizio del tempo ed è apparso in una forma visibile e ha creato Adamo alla sua stessa immagine è il medesimo che voi vedete sin dal giardino dell'Eden camminare e parlare con la prima coppia nel paradiso è lo stesso che ha visitato Abramo il medesimo con il quale Giacobbe ha lottato il medesimo che è apparso a Mosè nel prunardente che gli parlava faccia a faccia il medesimo lungo tutto l'Antico Testamento poi nel Nuovo Testamento colui che noi conosciamo che ha chiamato tutte le cose all'esistenza il Signore il Grande Io Sono il Logos che è venuto fuori da Dio al principio non nell'eternità ma al principio l'eternità non ha un inizio il tempo ha un inizio e il tempo avrà una fine cari è così importante andare nella santa parola di Dio non per essere rude né per essere contrario a tutti ma cari vorrei chiedervi se la Bibbia non conosce la parola Trinità e se la Bibbia non conosce il termine Dio Trino se la Bibbia non conosce nessun posto dove qualcuno sia nell'Antico che nel Nuovo Testamento abbia fatto qualcosa nella formula di Padre Figlio e Spirito Santo e Spirito Santo allora dobbiamo investigare le scritture cosa è accaduto in Matteo capitolo 28 versetto 19 il nostro Signore ha detto che avremmo dovuto ammaestrare tutti i popoli e battezzarli nel nome singolare Padre non è un nome Figlio non è un nome Spirito Santo non è un nome no un solo Dio che si è manifestato come nostro Padre nel Cielo nel Figlio sulla Terra e nella Chiesa per mezzo dello Spirito Santo dunque tre manifestazioni per un grande scopo da adempiere per riportarci nella nostra relazione con se stesso così Dio è diventato il nostro Padre Celeste e nel momento in cui lo Spirito Santo ha adombrato Maria e il Figlio di Dio è nato sappiamo che noi in Cristo il Figlio siamo stati adottati e riportati di nuovo nella nostra posizione in Cristo cari allora possiamo dire o almeno renderci conto di ciò che il nostro Signore ha detto in Giovanni capitolo 20 versetto 17 io vado al Padre mio e Padre vostro al Dio mio e Dio vostro noi dobbiamo andare da un passo della scrittura all'altro e non per ferirvi ma potreste immaginare che Dio esiste in tre differenti persone così da un'eternità all'altra vorreste credere che questi tre formino un Dio io vi chiedo vi chiedo questa è filosofia questo non ha neanche senso tre sono tre e uno e uno e la Sacra scrittura testimonia soltanto di un solo Dio e questo Dio è il nostro Padre Celeste tramite Gesù Cristo l'unigenito Figlio di Dio noi dobbiamo renderci conto che lungo il periodo dell'Antico Testamento c'era la promessa la promessa che il Messia il figlio sarebbe nato 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 e poi quando il tempo fu compiuto il figlio è nato cari non c'è un solo passo della scrittura qui dalla Genesi all'Apocalisse che insegni che Dio in cielo abbia generato un figlio e abbia dato nascita a un figlio questo è soltanto paganesimo è contrario ad ogni cosa che la vostra mente o il vostro cuore potrebbe concepire perché dovrei credere ciò che Atanasio o Ireneo o Agostino hanno menzionato nei loro insegnamenti io sono soddisfatto con quello che l'Apostolo Pietro Giacomo e Giovanni ciò che Paolo ha predicato senza nessuna contraddizione grande è il mistero della pietà Dio è stato manifestato in carne io non ho bisogno di spiegarlo ho soltanto bisogno di crederlo ho bisogno di avere parte nel piano di salvezza di Dio ma ora proprio velocemente per condividere con voi ciò che riguarda il tempo della fine cari permettetemi di fare questa dichiarazione io lo so che è un messaggio spezzettato sono consapevole di questo non sono un predicatore elegante tuttavia ho ricevuto una chiamata al ministero io e Waldfranck ho udito la voce del Signore in lingua tedesca come voi udite la mia voce oggi il 2 aprile 1962 era un lunedì mattina proprio all'alba di un nuovo giorno quando ho guardato verso la finestra è la voce dell'onipotente venuta dall'alto ma dalla destra dicendomi mio servitore il tuo tempo per questa città in breve sarà terminato io ti manderò in altre città a predicare la mia parola cari per farla breve allora mi sono reso conto che William Branham era l'uomo inviato da Dio con il messaggio di Dio il profeta promesso per restaurare tutte le cose come Elia ha preso le 12 pietre secondo le 12 tribù e ha riedificato l'altare del Signore e ha messo il sacrificio sopra di esso così William Branham doveva prendere gli insegnamenti dei 12 apostoli e riportarli di nuovo nella chiesa del nuovo testamento e cari la scrittura dice che la fine sarà come è stato l'inizio e noi adesso viviamo in quel tempo in cui ogni insegnamento della Bibbia viene restaurato in cui tutti i ministeri vengono restaurati la stessa potenza di Dio che c'era all'inizio la potenza di resurrezione la potenza soprannaturale di Dio ritorna nella chiesa di Gesù Cristo alla fine del tempo della grazia dunque sapendo che questo tempo è molto vicino io devo dire alzate vostri capi perché la vostra redenzione è vicina ecco lo sposo viene e cari se voi siete un figlio di Dio lo spirito santo vi parlerà e vi farà conoscere l'urgenza di uscire da ogni tradizione e ritornare a Dio e alla sua parola credendo come la scrittura dice e poi atti capitolo 13 sarà rimpiuto dove l'apostolo ha detto e tutti quelli che erano stati predestinati a vita eterna credettero se siete predestinati a vita eterna voi crederete la parola di Dio promessa per questo giorno per favore scriveteci noi spediamo letteratura in sedici differenti lingue su tutta la terra vorremmo servirvi per favore fateci avere il privilegio di servirvi bene nel nome di Gesù Cristo il nostro Signore Amen Grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti.